Il periodo estivo va in quiescenza, cioè si blocca Nel periodo autunnale, quando ritornano le piogge, rifà una mossa di crescita Quando ci sono le condizioni, poi si matura La maturazione del tartufo serve al tartufo per farsi individuare dagli animali Per farsi mangiare e disperdere le spore Quindi il tartufo inizia ad emanare l'odore quando le spore sono mature Ci mette anche 3, 4, 5 mesi a crescere Il bianco sta nel terreno, bello attaccato al terreno Quindi bisogna scavare intorno Eccolo qui E' bianco dentro Vuol dire che purtroppo la stagione sta finendo già E' appena iniziata ma è finita Eccolo qui Eccolo qui